Un senza tetto è rimasto vittima del freddo e degli stenti, l'ennesimo di questo 2014 palermitano, la media di una vittima al mese. È Palermo, ma potrebbe essere anche Torino, Milano o Roma. E proprio a Roma si è parlato di aprire le biblioteche e i crociard. A Milano si è cercato di fornire assistenza con delle unità mobili e Palermo ha messo sul piatto migliaia di euro di fondi destinati all'accoglienza dei senza casa, ma mancano i centri di accoglienza. Nelle mie comunità non c'è più spazio, ha detto il frate laico Biagio Conte, e fuori ci sono tanti che hanno bisogno di assistenza. Palermo di giorno e Palermo di notte è così diversa. La via Lincoln è un brulicare di residenti, commercianti e traffico, ma di notte si trasforma in un vero e proprio dormitorio a cielo aperto. Sono almeno 15 senza tetto della zona, ha dichiarato un commerciante. Dopo FIA, il senza casa, ex biologo capace di parlare ben cinque lingue, questo è il quattro crociard del 2014 che non sopravvive. Vicino alla mia portiere, anche qua, lungo il passaggio, ci sono la sera dei barboni. Ma che è morto qualcuno? No, ma due volte l'ha il successo. Però, ripeto, è un problema che sta diventando pesante, nel senso che bisogna fare qualcosa. Ma a Palermo qualcosa si sta muovendo. Sono molte le associazioni che sono nate e stanno per nascere, cercando di accudire ogni senza tetto della città. Una di queste, gli angeli della notte, incontra ogni giorno tutti i crociard di Palermo, distribuendo pasti caldi, medicinali e vestiti. Numerosi volontari di questa associazione incontrano anche i cosiddetti nuovi poveri, offrendo loro dello scatolame. Sono una decina in tutte le associazioni della città e l'obiettivo è quello di formare un comitato che possa dirigerle, evitando delle sovrapposizioni e cercando di coprire l'intera piantina di Palermo.